Buonasera a tutti i telespettatori di Lente e Ingranimento e come di consueto ogni mercoledì Buonasera al nostro ospite, il sindaco di Napoli Luigi De Maggisis Buonasera a voi, grazie Sindaco, anche oggi una puntata piena di argomenti da trattare sono tante le tematiche importanti che affliggono la nostra città Io comincerei con il consiglio comunale di ieri che ha votato il bilancio consolidato Sindaco, è passato il bilancio consolidato, 21 voti a favore, le opposizioni sono uscite dall'Aula Lei dopo ha detto che l'amministrazione comunale va comunque ringraziata bisogna far squadra e portare a Roma le nostre istanze Innanzitutto partiamo da un dato, l'approvazione del bilancio consolidato sono altri comuni che ancora non sono riusciti a farlo, comuni importanti questo bilancio consolidato significa mettere, secondo il dettato della legge, in armonia tutte le società a partecipare, quindi è un segno di solidità sempre maggiore della città in un quadro che è molto complicato e sul quale dopo ci ritorneriamo Altro dato, nonostante i tamburi roboanti di una certa campagna mediatica che davano la maggioranza per sfaldata, la maggioranza è coesa in realtà noi non siamo 21 ma siamo 24, gli altri non c'erano perché c'era una consigliera a Strasburgo, un'altra in un'altra parte Tutte assenze giustificate, quella è la maggioranza E' quella, certi numeri non sono numeri bulgari ma sono numeri politicamente assolutamente importanti sufficienti e grande gratitudine che do alla maggioranza L'opposizione fa il suo lavoro, cerca di ovviamente mettere in difficoltà l'amministrazione Certe volte lo fa in modo costruttivo, altre volte meno Il tema adesso che si apre, come diceva lei, è un altro Domani io ho altri incontri al governo e vado a Vicenza dove c'è l'Assemblea nazionale dei comuni italiani In questi giorni, proprio in questi giorni, mentre parliamo il governo sta preparando la manovra economico-finanziaria E' là che si gioca il destino del paese Non voglio essere eccessivamente roboante nell'affermazione Ma se non c'è una risposta che significa dare ai comuni la possibilità di far fronte a temi dove ormai i comuni non riescono più da soli Potremmo andare dai trasporti, alle fogne, ai parchi, potremmo fare un enenco lungo Questo è il momento, noi non potremmo più far fronte a questi temi Quindi stiamo mettendo in campo un'azione politica istituzionale senza precedenti Io credo che in questo momento ci sono le condizioni perché il governo nazionale e il Parlamento per la prima volta degli ultimi anni comincino a dare dei segnali per la coesione del paese attraverso i sindaci, attraverso i territori e attraverso i loro abitanti Sono fiducioso che questo possa accadere Ovviamente fin quando non vedo le norme scritte, depositate, discusse, approvate bisogna essere molto cauti Ma anche molto preoccupati Io continuo a vedere persone che sottovalutano un pochino tutto quello che sta accadendo Si limitano a protestare, si limitano a lamentarsi O c'è chi si fa la battaglia politica per l'orticello della sua casetta politica Ma qua è in gioco veramente il presente e il futuro dei nostri territori Noi più di quello che abbiamo fatto e poi credo torneremo alle vertenze di adesso Non possiamo fare Quindi lavoreremo fino all'ultimo secondo perché da Roma arrivino notizie importanti per i nostri territori Sindaco, per dare anche qualche dato ai nostri telespettatori che assiduamente ci seguono Per quanto riguarda la situazione dei comuni in grande difficoltà Abbiamo dei dati veramente raccapriccianti perché ci sono 107 comuni in dissesto 151 in predissesto e 67 ad un passo dal default Tanto è vero che lei ha apprezzato in qualche modo la mozione che la parlamentare di Forza Italia e capo dell'opposizione del Consiglio Comunale porta appunto in Parlamento per sollecitare il governo affinché comunque intervenga non soltanto per il Comune di Napoli di cui chiaramente critica legittimamente come dato politico la sua amministrazione ma proprio per tutti questi comuni che vivono una situazione di difficoltà è quasi un eufemismo parlare di difficoltà I sindaci sono tutti uniti mai come in questo momento sono tutti uniti quelli autonomi come me, le 5 stelle del centro-destra e del centro-sinistra Poi ci sono alcuni che sono particolarmente indignati e arrabbiati tra questi ci sono io sicuramente perché in questi sei anni siamo quelli che abbiamo subito l'attacco più pesante delle politiche liberiste, dei tagli ai trasferimenti delle gabbie normative, del predissesto E poi vorrei dire una cosa importante Noi in questo momento abbiamo delle sofferenze significative in città di cui sono preoccupato, non so se dopo ne parleremo Però, attenzione, mi do dei dati Torino sta per andare in predissesto e a Torino, che è una delle città più ricche d'Italia c'è una situazione dei servizi in affanno A Milano il sindaco l'altro giorno mi ha detto quando siamo stati a Roma che ha il consiglio metropolitano occupato dai dipendenti perché rischia di essere licenziati A Roma l'Atac, la Raggi, come dire considera un risultato positivo quello di aver portato i libri in tribunale ognuno la può pensare come vuole ci sono dipendenti Atac, trasporto pubblico che non vengono pagati lo stipendio stiamo parlando e non vi parlo delle situazioni di Messina della Calabria e di altre città quindi il tema non è malcomune mezzo caudio il tema è che il paese rischia un crollo ma rischia un crollo sui servizi vedete l'immagine di Livorno quando c'è stato il nubifraggio eppure Livorno è una città del centro Italia è una città in genere ritenuta amministrata con servizi efficienti più a misura d'uomo chiaramente passi Napoli in tutto questo avendo la situazione economica in assoluto più difficile ereditate aver avuto i provvedimenti amministrativi e giuridici più pesanti in questi sei anni è quella che è andata più in controtendenza sotto certi aspetti e anche sul lavoro che stiamo facendo ecco perché oggi io dico oggi per dire oggi in questi giorni si sta giocando una partita davvero importante e ci auguriamo che tutte le forze politiche al di là perché poi c'è invece qualcuno diciamolo con chiarezza così come io sono intellettualmente onesto nel riconoscere quando c'è qualcuno che fa qualcosa di utile l'onorevole Carfagna non ha fatto una chiacchia ha rappresentato un atto in Parlamento dicendo queste istanze sono fondate ci sono altri invece che fanno vedere come dire che fanno magari un'opposizione costruttiva o che fanno le critiche e poi magari vanno a Roma e fanno di tutto per far crollare un'amministrazione una città e quindi alla fine i servizi che sono nell'interesse dei cittadini cioè io non avverto quella complessiva coesione che il tema meriterebbe però ci sono i passaggi giusti oggi istituzionali e politici per raggiungere un obiettivo che fino a qualche mese fa sembrava francamente non raggiungibile prima di entrare nel vivo e le criticità di Napoli cosa ne pensa del fatto che ci sia la fiducia per quanto riguarda la legge elettorale questo potrebbe essere un handicap ma ormai negli ultimi anni cioè se un argomento così cioè come legge elettorale la fiducia io sono molto critico complessivamente e in particolare per la legge elettorale si va avanti ormai da anni a decreti legge e a voti di fiducia l'abbiamo detto più volte anche qui a Televomero che le leggi elettorali dovrebbero essere le più condivise non dico all'unanimità ma innanzitutto ci vuole un dibattito in Parlamento insomma stiamo parlando della legge che andrà a formare probabilmente una prossima maggioranza politica un prossimo governo noi siamo un paese democratico fondato sulla rappresentanza parlamentare un sistema parlamentare c'è bisogno che ognuno si possa esprimere legittimamente nel Parlamento della Repubblica Italiana però credo che alla fine si andrà all'ennesima legge approvata con il voto di fiducia infatti parte la sinistra insorta su questa decisione ovviamente oltre al Movimento 5 Stelle e alle forze di opposizione perché chiaramente una legge elettorale dovrebbe essere la più condivisa possibile perché insomma è in ballo la democrazia del nostro paese Condivido Sindaco parlavamo di criticità l'azienda napolitana di mobilità un'ulteriore riunione ieri fino a questa mattina Allora Sindaco l'azienda napolitana di mobilità l'abbiamo detto tante volte insomma è in serie difficoltà come lei diceva prima è una situazione che grava su tutti su molti comuni della nostra Italia questo problema e qualcuno ha portato il libro in tribunale l'ANM non è a questo punto ma insomma è un passo facciamo un quadro di carattere generale o e abbiamo parecchie preoccupazioni di una ne abbiamo parlato poc'anzi che è la madre di tutte le battaglie perché se non arrivano segnali da questa manovra economico-finanziaria noi non abbiamo cassa se non hai cassa non puoi pagare i creditori è una situazione che non può andare avanti queste hanno creato delle gabbie normative finanziarie che se non rimettono se non pongono rimedio vuol dire che è doloso perché siccome ormai il governo e le forze politiche parlamentarie sono perfettamente consapevoli di quello che accadrà se non ci saranno delle risposte vuol dire che è dolo dolo significa è voluto vuol dire che è voluto che non si potranno pagare i creditori non si potranno salvare aziende e quant'altro questo è il quadro di carattere generale a questo quadro poi ci sono le aziende dei servizi essenziali prima pre-rentesi necessarie ad oggi Napoli è l'unica città d'Italia che non ha ceduto agli soffocamenti finanziari e normativi facendo cassa mettendo i servizi sul mercato la nostra proposta è la migliore possibile che in questo momento poteva fare il comune di Napoli e mi sembra quasi oro colato politico rispetto al quadro che abbiamo di fronte ed ecco perché io ritengo che non si può perdere più un minuto per andare a chiudere questo accordo noi garantiamo mantenimento dell'azienda pubblica addirittura su scala metropolitana qui non più comune ma area metropolitana salvaguardia di tutti i posti di lavoro nemmeno uno licenziato pagamento degli stipendi garanzia dei diritti dei lavoratori immediato e ovviamente progressivo perché ci vuole del tempo efficientamento dell'azienda con un piano industriale rilancio e quindi garantire servizi ai cittadini mi dica lei non faccio la domanda a lei mi dicano chi ci ascolta quale migliore offerta aggiungo ripatrimonializzazione dell'azienda quindi mettiamo il capitale per rilanciarlo in attesa che la regione intervenga in attesa che il governo nazionale faccia la sua parte io non riesco a comprendere io vorrei mandare un messaggio molto chiaro ognuno può fare quello che vuole io sono un rispettoso assoluto delle scelte di tutti delle altre istituzioni dei lavoratori dei sindacati dei cittadini dei miei familiari di tutti io rispetto l'opinione di tutti dico però perché ho il dovere di dirlo questa è un'offerta che sinceramente nessun'altra amministrazione in una condizione come questa avrebbe potuto dare se si perde il tempo utile è una partita senza ritorno qua non c'è la partita di ritorno si va con i libri in tribunale che significa i libri in tribunale vogliamo dirlo a chi ci ascolta magari ci stanno anche parenti di lavoratori ci sono cittadini i libri in tribunale significa centinaia di persone licenziate non mobilità licenziate significa che si va sul mercato sul mercato può venire pippo può venire mago chiunque può venire chiunque possiamo correrci il rischio di una città che l'azienda vada in mano a privati senza scrupoli allora questo è il momento di stare attorno a un tavolo stanotte abbiamo fatto non ci sono stato io ma c'è stata tutta la nostra squadra l'ennesima lottata si è finito alle 7.46 e purtroppo non c'è stata l'intesa sperata però si stanno facendo passi in avanti attenzione io sono fiducioso perché conosco il senso di responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici di questa città che ovviamente sono i primi che meritano un'azienda diversa e poter lavorare in tranquillità ritengo che anche i sindacati tutti mi auguro o quasi tutti abbiano quel senso di responsabilità la regione fa la sua parte domani c'è un incontro in prefettura attenzione perché dietro a un punto e virgola ci possono franare diritti azienda e un futuro finalmente migliore per la nostra azienda pubblica quindi io personalmente mi sono assunto tutte le responsabilità la nostra squadra e guardi con tutte le preoccupazioni che ho ho una coscienza veramente tranquilla perché sfido chiunque a trovare oggi in Italia Milano città metropolitana sta chiudendo praticamente intere linee del servizio pubblico perché non hanno le risorse e noi invece presentiamo un piano che va esattamente nella direzione di Rilano ma allora a che stiamo giocando vogliamo far capire che siamo a un punto veramente che non si può scherzare che ci vuole un'assunzione di responsabilità veramente di tutti vediamo a questo punto chi decide che cosa noi le nostre scelte le abbiamo fatte attendiamo e con il governatore della campagna di Luca ha avuto un incontro proprio sul tema dei trasporti e dell'aere in particolare io mi auguro di averlo ero pronto la settimana scorsa ho dato una serie di date attraverso la mia segreteria alla sua segreteria mi hanno rimbalzato a questa settimana dicendomi che tra lunedì e martedì ci saremmo visti adesso mi hanno rimbalzato alla prossima settimana ma io sono un uomo che sa rimbalzare rimbalzo faccio capriolo salto ostacoli non è quello l'ostacolo che ci spaventa io ritengo che non posso immaginare ma nemmeno astrattamente che la regione non si assuma le sue responsabilità previste dalla legge poi per carità è capitato anche in alcuni casi che la legge è stata violata noi abbiamo fatto ricorso all'autorità giudiziaria e l'abbiamo vinta speriamo che non si arrivi a questo perché ripeto adesso c'è un senso di responsabilità da parte di tutti io ho sempre detto perché io a differenza di altri sono una persona intellettualmente onesta che se un'altra forza politica anche a me avversa fa delle cose importanti e significative ne riconosco il merito ne esprimo gratitudine e stringo le mani il governatore De Luca proprio ieri all'inaugurazione e l'installazione di Capurra a Monte Sant'Angelo ha detto che mai tanta attenzione e tanti investimenti ci sono stati per la città di Napoli e continueranno ad esserci investimenti per Napoli come ha detto anche il Tar nell'ultima decisione dove in un contrasto tra noi e la Regione ci ha dato totalmente ragione quelli si tratta di fondi europei che doverosamente devono andare a tutte le città compreso Napoli quindi il Presidente della Regione quando firma accordi col Sindaco di Napoli o piuttosto col Sindaco di Salerno o piuttosto col Sindaco di Caserta fa esattamente l'esercizio delle sue funzioni istituzionali quando lo si fa con correttezza noi esprimiamo gratitudine qua a Televomero siamo venuti abbiamo parlato degli accordi sul Collana sugli impianti sull'Eco Distretto sulla Metropolitana sui fondi europei perché non dirlo io sono sempre lo stesso altri ogni tanto vanno un po' a giorni alterni ma per me va bene così l'importante è che si faccia ogni sforzo e l'interesse della città perché il momento è tra i più delicati sicuramente per alcune partite che si stanno giocando quest'anno sembrano essere in ambilico le luci d'artista a Salerno l'anno scorso è stato un cavallo di battaglia le luci d'artista a Salerno per l'investimento che la regione aveva fatto e giustamente le altre località chiedevano lo stesso interessamento da parte della regione questo è un tema regionale noi come ogni anno con i nostri pochi fondi garantiremo le luci di Natale in tutti i quartieri speriamo di fare il nostro meglio come sempre tra l'altro il Natale sembra lontano ma per un po' arriva fa caldo quindi non si sente l'atmosfera natalizia ma la programmazione la dobbiamo fare e la stiamo facendo Sindaco ieri c'è stata la protesta di coloro che ogni giorno in via Bologna vendono con il mercato mi riferisco al mercato multietnico mercato multietnico che ormai da tanto e a Napoli dovrebbe essere praticamente dislocato hanno protestato in tanti sono scesi in piazza per chiedere l'intervento dell'amministrazione perché si riveda questa decisione stiamo appunto vedendo le immagini sì li ho incontrati oggi tra l'altro sono persone responsabili che vogliono integrarsi pienamente in un tessuto nel quale tra l'altro vivono da 20-30 anni qua non parliamo giusto per dare un elemento di chiarezza dell'immigrato che pure deve avere tutti i suoi diritti e tutti i suoi doveri appena giunto nel territorio napoletano parliamo di persone che vivono in quella zona da 20-30 anni noi l'abbiamo detto più volte lunedì staremo in prefettura domani faremo anche delle riunioni importanti stiamo lavorando per un piano strategico complessivo su piazza Garibaldi e basto via Bologna è uno dei punti non è il solo quindi noi vogliamo veramente porre come priorità tra le varie priorità questa zona della città che anche qui tante opportunità per l'immediato futuro tante anche cose buone ma anche tante cose negative che non vanno su cui bisogna lavorare e io parlando con loro e dando loro garanzie come dire che potranno esercitare nel rispetto della legge le attività che svolgono e che vogliono svolgere ho chiesto di contribuire insieme a noi proprio a creare una nuova fase su quella zona fatta di diritti e doveri per tutti una grande sfida per la sicurezza per la cultura per il commercio per la mobilità e dobbiamo anche qui essere impegnati in tanti abbiamo parlato di immigrati e oggi lei è in sciopero della fame ius soli è sicuramente un atto doveroso verso chi nasce in Italia la cittadinanza dovrebbe essere un diritto costituzionalmente garantito ma questi molti loro sono più italiani che alcuni italiani è un diritto costituzionale i diritti costituzionali vanno sottratti alle contingenze politiche è vergognoso che si faccia di un diritto costituzionale solo perché qualcuno ha una pelle di un colore diverso una questione da campagna elettorale non fa onore a un Parlamento democratico quindi io credo che si debba votare questa legge e in atto questa campagna interessante di un giorno di sciopero della fame a testa di chiunque lo voglia fare la mia posizione sta sempre questa quindi non è una posizione che scopro ora io penso che i diritti e i doveri come ho detto prima sono per tutti indipendentemente dalla razza dal sesso dal colore della pelle dal senso ma non lo dice Luigi De Magistris lo dice l'articolo 3 primo comma della Costituzione della Repubblica italiana che come abbiamo detto spesso qui a lente di ingrandimento c'è tutto nella Costituzione basterebbe semplicemente applicarla piuttosto che modificarla sindaco è così ma infatti credo che la grande sfida di tutti noi come cittadini come abitanti come sindaci come parlamentari dovrebbe essere quella di attuare la Costituzione un grande manifesto politico che potrebbe unire persone anche diverse è un po' quello che stiamo facendo anche a Napoli dove abbiamo con coraggio provato dal basso ad applicare la Costituzione che per decenni governi nazionali e parlamenti non hanno applicato e che in alcuni casi hanno disatteso in altri casi ancora più grave hanno svuotato con legge ordinaria la nostra carta costituzionale sindaco la scorsa settimana noi abbiamo qui all'ente di ingrandimento parlato dell'impianto collana c'era stata la conferenza stampa degli aggiudicatari della bando regionale mi riferisco alla Giano SRL che fa capo a Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara sentimo anche uno stralcio di questa conferenza stampa e commentammo insieme quanto fosse importante che l'impianto collana rimanesse alla città di Napoli oggi c'è stata la conferenza stampa di un'altra Ati che era stata poi la prima giudicataria di questa vicenda abbastanza surreale dello stadio collana che avevano vinto la gara prima che poi il Consiglio di Stato intervenisse dando ragione alla Giano anche oggi c'erano tanti campioni campioni del mondo che hanno onorato lo sport e hanno portato Napoli nel mondo a chiedere alle istituzioni un senso di responsabilità che l'impianto rimanga alla città di Napoli e ascoltiamo l'intervista a Sandro Cuomo un campione del mondo che veramente ha portato il nome di Napoli con grande onore noi siamo qui oggi a chiedere il ritiro del bando di gara al governatore siamo qui a dare forza a questo pensiero perché il collana deve rimanere un impianto pubblico ad uso esclusivamente sportivo senza aree commerciali e per consentire tutti gli operatori che già le associazioni che già operavano all'interno dello stadio di rientrare e continuare la loro missione sportiva e sociale allora Sindaco per onestà intellettuale devo dire che Sandro Cuomo in qualche modo ha rivisto un po' dopo l'esito anche del bando che chiaramente non li vedeva più vincitori la sua posizione perché è stato anche duro con l'amministrazione comunale quando l'amministrazione comunale riteneva questo bando illegittimo perché minava proprio il senso dell'impianto che doveva appartenere alla città chiaramente tutti possono rivedere le loro posizioni anzi da qualsiasi confronto e qualsiasi riflessione è quanto mai auspicabile da parte di tutti adesso la posizione del Lati che fa capo a Cuomo è questa riapriamo lo stadio Collana affidiamo le associazioni facciamo sì che là dentro si possa fare solo ed esclusivamente sport sport per tutti condivido le parole utilizzate dal campione Sandro Cuomo è la nostra posizione da sempre adesso non giova a nessuno dire avevamo ragione noi ma a me fa piacere dirlo perché vuol dire che noi abbiamo posizioni di buonsenso e giuridicamente fondate ora effettivamente ci sono tutte le condizioni per non commettere altri errori i lavori si stanno facendo tra un poco progressivamente il Collana può riaprire ci sono 8 milioni che consentono nel giro di poco più di un anno di riavere il Collana con un gioiellino fino alle università divenne gestita dall'azienda che si occupa dell'università immediatamente dopo l'università con le garanzie delle articolazioni pubbliche comune e regione si deve aprire il Collana a tutte le associazioni le federazioni il CONI si lavora insieme e si rilancia il territorio per lo sport il Collana è un bene comune per lo sport soltanto per evitare ulteriori errori anche perché abbiamo firmato a proposito di Regione Campania 4 luglio è stato firmato un accordo tra la Regione Campania e il Comune di Napoli che si decideva appunto che l'impianto fosse nelle more affidato all'Aro e poi dopo ritornava in gestione al Comune di Napoli e anche la Regione Campania è venuta sulle nostre posizioni rivedendo quindi adesso manca solo appunto una cosa che è formale ma è urgente cioè la Regione deve ritirare quel banco affinché tutto questo possa accadere altrimenti se la Regione ritiene di cambiare nuovamente idea vuol dire che andremo appunto a Andraggiano si apreva una nuova fase però sinceramente io credo che dentro ci possono stare tutti compreso Giano compreso perché qua non è che dobbiamo optare per Tizio o per Caio ecco perché la nostra proposta era la migliore possibile la Regione mette i soldi perché è proprietaria si risistema il collana dopo si fa una fruizione collettiva per tutti la nostra posizione all'inizio è stata avversata pesantemente ci hanno contrastato in tutti i modi oggi stiamo venendo su questo bene dare atto a chi conviene su queste posizioni vuoi i campioni sportivi vuoi la Regione Campania però non si ritorni un'altra volta indietro si vada su questa strada in modo che progressivamente nei prossimi giorni riapriremo questo benedetto collana per tutti francamente sarebbe veramente incomprensibile se si tornasse un'altra volta indietro perché poi veramente insomma il 25 gennaio fa un anno che l'impianto è chiuso insomma mi sembra un po' troppo per un impianto che vede la partecipazione quotidiana di 7.000 attreti insomma cioè è un danno alla città e ai cittadini no anche perché ripeto è una battaglia che noi stiamo facendo a me non basta andare in giro tra i miei concittadini a dire abbiamo ragione noi perché il cittadino vuole essere informato e vuole anche sapere chi ha ragione a torto però poi vuole avere i servizi che gli spettano insomma io dico lavoriamo in queste direzioni concrete magari qualche taglio di nastro in meno di inaugurazione qualche gesto concreto in più sindaco riflessione scolastica sono tante le domande noi abbiamo un'email a cui i cittadini possono scrivere la ricordiamo redazione chiocciolatelevomero.it questa settimana l'argomento che più è stato chiesto nell'email è la riflessione scolastica quando partirà la riflessione scolastica e partirà la riflessione scolastica? allora partirà parte leggermente in ritardo come gli altri anni ma l'assessore che sta facendo un'informazione anche in una campagna di disinformazione abbastanza pressante sta cercando di fare un'informazione corretta e lei mi ha assicurato che entro la fine di questo mese parte e questo è uno degli effetti come dire non indiretti strettamente collegato alla situazione complessiva dei comuni in altri comuni o non si fa proprio più la prefezione o in altri comuni importanti si va avanti con proroghe che non si possono fare per un anno eppure un altro anno noi abbiamo un codice degli appalti abbiamo delle regole che prevedono che tu devi fare delle gare e le mamme e i papà devono sapere le gare non è che purtroppo per fortuna così il sistema durano un giorno o due giorni tu affidi direttamente le gare quindi c'è stato un ritardo complessivo di una quindicina di giorni rispetto al quadro del contesto dato normalmente è sempre partita la seconda settimana di ottobre l'ideale è che si dovrebbe partire a settembre ma questo avverrà quando avremo altre norme avremo altre situazioni finanziarie avremo un quadro complessivo di bilancio in cui si può incidere altrimenti il rischio che l'anno prossimo no l'anno prossimo no perché sarà una gara che è prevista su due anni o tre anni adesso non ricordo ma anche su altri servizi noi non andremo a migliorare questo è evidente però insomma io mi sento di rassicurare me l'ha detto l'assessore sono una persona seria quindi credo che entro quella data dovrebbe partire a questo proposito ricordiamo ai nostri telespettatori che l'assessore all'educazione alla scuola del comune di Napoli Palmieri sarà ospite qui all'ente di ingrandimento la prossima settimana faremo proprio un focus parleremo di scuola anche perché l'assessore ci ha spiegato telefonicamente che chiaramente la riflessione scolastica viaggia indipendentemente dal prolungamento poi dell'orario scolastico perché le scuole hanno un'autonomia di conseguenza potrebbero anche decidere alternativamente alla mensa scolastica altri modi per far sì che comunque ci possa essere l'orario prolungato fermo restando che l'amministrazione comunale ha sposato la linea dell'efficacia della mensa scolastica come educazione anche alimentare per i bambini non so come abbiamo innalzato in questa gara la qualità abbiamo fatto fronte anche ad alcune critiche che erano giustamente arrivate in alcune municipalità per dei problemi immaginate un po' se davamo la proroga a chi magari aveva commesso degli errori o non era stato all'altezza insomma quando vuoi alzare il livello di qualità quando vuoi lanciare delle sfide quando non ti vuoi piegare al fatto che non hai soldi e quindi potremmo dire la riflessione si fa che non abbiamo soldi quindi come diceva lei si fa comunque l'orario prolungato ognuno si porta il panino si porta la merenda e si fanno altre scelte quindi è bene fare forse questo focus sull'assessore dei palmieri perché dà in una ventina di minuti un quadro complessivo di qual è la situazione dove noi abbiamo agito non solo correttamente da posizione giuridico ma anche qui abbiamo fatto il massimo con la situazione finanziaria e con il livello di qualità che noi vogliamo garantire ai ragazzi della nostra città ai bambini della nostra città Sindaco noi quindi sulla riflessione scolastica chiudiamo questa puntata agli eventi di ingrandimento la settimana prossima abbiamo detto sarà anche ospite dell'assessore Palmieri vi informeremo per tempo così potete inviare le vostre domande anche all'assessore Palmieri lo ricordo ancora in redazione chioccio la televomero.it ringraziamo il Sindaco che domani sarà nuovamente a Roma e quindi la prossima settimana mercoledì ci racconterà se ci sono stati progressi e soprattutto speriamo che la NM possa essere salvata e si possano non portare i libri in tribunale grazie a tutti per averci seguito una buona serata buona serata Sindaco buonasera grazie a voi grazie a tutti